Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come vi avevo già riportato in live c'è un fottuto testa di cazzo che da oggi in live mi ha commentato con un profilo a immagine e somiglianza del mio con lo stesso nick, la stessa immagine profilo e tutto il resto, se andate nella live di oggi vedete i vari commenti qui di lato ragazzi non si vedono i commenti perché l'ho bloccato sto figlio di puttana perché dopo un po' mi ha rotto le palle e quindi sinceramente l'ho bloccato, allora che cosa è successo ragazzi? nella live ho cercato di spiegarlo nella live che ho fatto poco fa però OBS fa un po' come cazzo gli pare attacca e stacca lo streaming quando vuole lui e quindi suppongo che non si sia capito molto bene quello che stavo cercando di farvi capire, un po' i lag, un po' cazzi e mazzi comunque sia come vi dicevo ragazzi io questo qui l'ho bloccato, vedete che ce l'ho qui che è bloccato e questo testa di cazzo è andato simpaticamente a commentare sul canale di Ale Brambi che giustamente lui è venuto da me e mi ha detto ti sembra il modo di commentare non ti ho mai fatto niente e io ho detto che comunque non sono io allora voglio rivolgere un appello a tutti gli altri youtuber che mi conoscono e anche a quelli che non mi conoscono, per altri youtuber intendo tutti quanti tutti a partire da Domenico di Parassiti a Cattoni, GTA Pro, tutti quelli che mi conoscono ok ragazzi Dark Glitch e compagnia bella prima di venirmi a insultare o attaccare o fare un video contro io parlo per tutti, come ho già detto per tutti compresi i nemici ragazzi compresi i miei nemici, io non so chi si sente mio nemico o meno però comunque sia io non sono nemico di nessuno quindi rinnovo GTA Pro, GTA TV, rinnovo a Domenico, rinnovo a Dark Glitch rinnovo a tutti ragazzi, io adesso qui non mi sto a mettere a fare l'elenco non sono io ragazzi, non sono io, basta cliccare sul profilo di questo figlio di puttana per vedere che non sono io ragazzi, quindi non mi venite a fare video contro questo ve lo chiedo per favore cioè non mi metterò nemmeno a rispondervi se qualcuno mi farà un video contro non mi metterò nemmeno a rispondervi perché vi sto dimostrando il vero questo qui ragazzi è un account fake vedete non ha iscritti, non ha nulla l'unica cosa che dovete fare è che se questo figlio di puttana vi commenta perché lo rinnovo ogni volta, non mi interessa che mi chiuderanno il video per le parolacce dovete segnalarlo ragazzi, per furto di identità questa persona ha rubato comunque l'identità del mio canale per diffamarmi ora che sia la simpatica testa di cazzo che ha tentato di truffarmi o che sia qualcun altro, non ne ho idea però comunque sia vedremo come andrà a finire allora io in questo caso ragazzi andrò a segnalare furto dell'identità del mio canale voi dovrete segnalare semplicemente ha rubato l'identità a un canale a cui sono iscritto e segnalate il commento ragazzi per favore ve lo chiedo di fare questa cosa perché comunque come vi ho già detto non sono io questa persona sta cercando di arrecare danni al mio canale ma tanto non ci riuscirai pezzo di merda non riuscirai a farmi desistere dal fare youtube non riuscirai a fare un cazzo perché io non sono una persona che si lascia influenzare da un etere di merda da uno, da dieci, da cento, da mille coglioni come te perché tu sei un coglione e purtroppo come mi hanno scritto anche sui commenti la mamma degli idioti è sempre incinta tu sei un povero coglionazzo senza vita sociale perché se stai qui a rompere le palle a me a fingerti sei un povero idiota senza vita sociale e come hai detto in live che tu sei un leone tu non sei un leone tu sei un coglione perché un leone non fa queste cose tu sei un povero idiota un povero imbecilla imbecille mi rendo conto di avere tanti nemici ragazzi perché mi rendo conto di avere tanti nemici però purtroppo un canale youtube porta a questo ma non perché io voglio fare il montato per carità di dio perché magari qualcuno può pensare diciamo se hai arrivato a diecimila iscritti ti sei montato alla testa no non me la monterò nemmeno a centomila alla testa io ragazzi anche perché non ci arriverò mai né a cinquanta né a trenta e né più in là di quello che sono e questo ve lo dico ragazzi comunque vi sto mostrando come segnalarlo questo idiota e come vi dicevo comunque avendo un canale youtube dicendo un no qui dicendo un no lì ti fai un nemico però purtroppo io dico a queste persone mettetevi nei miei panni e basta solo questo vi dico però se fate queste cose evidentemente nei miei panni non vi ci mettete e vi mettete solamente nei panni di un bimbetto idiota che si diverte a stuzzicare le persone che a me sinceramente del tuo stuzzichio mi ci gratto le palle anzi se mi vuoi grattare le palle mi stuzzichi le palle un pochettino mi fai pure in favore così con sto caldo mi le gra mi ci dai una grattatina mi le scansi da destra e sinistra e mi ci dai una grattatina solo questo puoi fare e basta ricordati e ricordatevi tutti ragazzi tanti nemici molto onore per me più nemici ho e più onore mi fate ragazzi perché come ho già detto una volta significa che ogni giorno pensate a me nella buona e nella cattiva sorte nel bene o nel male voi pensate a me e a me questa cosa mi riempie di gioia perché sia che mi venite a lasciare dislike sia che non mi commentate o che mi commentate a merda vuol dire che comunque in un certo qual modo pensate a me quindi detto questo buona vita a tutti ragazzi segnalate sto stronzo di merda un saluto e al prossimo video